Qualcuno c'è sicuro sulla traiettoria Proviamo da fuori All'Erikson dove sta? Qual è l'Erikson? Quando fai due passaggi Andrea proviamo da fuori Come si chiama lui? Non è che il nome e il cognome di questi ragazzi Fai un'intervista Spero perché ti prendano E' sì ragazzi degli spugliesuoli Li nascondiamo Comunque si Non sai riprende perché non c'è Sta riprendendo Sta riprendendo Non schercià play C'è scritto play? Sì rec c'è scritto Però qui c'è una spia rossa che ti dice che lui sta registrando Ma chi gioca? Arby Canà Canà Uomo uomo E dai ragazzi che cari Ti arriva a seguire la vita Cazzo Comincia a fare Sì Sai tu Che bello Vai vai Abbi da Siamo bene Sì Giochi 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 Il francese No il francese alla fine Il francese ci lo metto A posto di Andrea Campo E già Andrea Poi ti riprende Andrea la pizza se ne ce l'ha Sì che Andrea i palponi Non la mettono È l'arbitro più di sinistro Non c'è Non c'è Meglio del vostro Noo ma noo ma noo Come è successo? Eh Daniele ha tirato l'arbitro la presa L'arbitro? Nei Il portiere la presa gli è schiappato e gli dici come no Poi giallo così Potreste fare la ola? La ola Eeeh Happy goal Eeeh 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 Mauro saluta Mauro saluta Alza la tassata Eeeh Massimo Eeeh Indietro Sono tutti lì solo Che indietro dove sono Tutti lì Ma poca Eeeh Stiamo mica finito vero? Giusto Ecco Eeeh beh insomma Io non la vedo molto bene Anche il mondo gira 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 Eeeh 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 La facciamo a Ciro Sei pronto Ciro Vai 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 Ciro Vai 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 Ciro Vai Eeeh 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 Contropiede Contropiede Oh bravo Dai cazzo Maddaluno Che cazzo stai Maddaluno Che fai un po' di cambi no? La squadra che... Tiro Tiro Dai dai giochi giochi Abbiamo preso tutti e quattro il gol senza me Calma calma Enrico Calma Dai Enrico Brava Raga Ragazzi calmi Fai 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 Ma no